La collaborazione tra gli Adenesi siciliani e la classe politica regionale Potenziare la ricerca, riconoscere all'alta formazione universitaria un ruolo prioritario per la strategia di crescita del territorio siciliano Queste le linee guide emerse ieri nell'incontro voluto dal Rettore Tomasello con i tre esponenti del Governo regionale Gli assessori Antonello Antinoro, Beni Culturali, Pippo Gianni, Industria e Giovanni Larda, Presidenza Svoltosi nell'Aula Magna dell'Ateneo alla presenza del Senato Accademico, del Consiglio d'Amministrazione, dei delegati rettorali Delle organizzazioni sindacali, del personale tecnico amministrativo e del Vice Sindaco Onorevole Giuseppe Ardizzone Che ha preannunciato per il 2009 l'organizzazione di una mostra a Messina con i capolavori della Sicilia A partire dai dipinti di Antonello L'Università di Messina vuole aprire una corsia preferenziale con la Regione e con gli enti locali Perché, come ha sottolineato il Rettore Tomasello, solo creando una rete tra il sapere e la politica Si potranno cogliere occasioni di sviluppo del territorio siciliano Non possiamo isolarci, vogliamo interagire con le altre università siciliane Perché fare squadra rappresenta una strategia vincente per frenare la fuga dei cervelli Il nostro Ateneo è pronto a raccogliere la sfida e ha già presentato al Governo regionale i suoi progetti Che attraverso l'alta formazione e la ricerca vogliono contribuire a far crescere la qualità dei nostri laureati E al rilancio della Sicilia Il Rettore, infine, ha anticipato che a giugno 2009 Sarà pronto l'incubatore di imprese allocato al Papardo Che rappresenterà un ulteriore passo avanti dell'Università di Messina nell'ambito della ricerca Grazie a tutti